Matteo Della Morte al termine di Ferralpistallo Provercelli 0-3, Matteo un'altra prestazione importante da parte tua e da parte della squadra con due reti che hanno di fatto chiuso questo incontro? Sì, sono molto contento sia per la prestazione personale che della squadra, ho scoperto i due gol molto importanti, è stata una vittoria molto importante contro una squadra forte che è sicuramente difficile da battere. Siamo contenti, ripeto, della prestazione, torniamo a casa con i tre punti e pensiamo già la partita di domenica. Oltre alla prestazione di quest'oggi stai vivendo un momento di forma veramente eccezionale con cinque reti nelle ultime otto partite, come stai vivendo questo periodo? Sono contento, però non mi voglio porre limiti e voglio continuare così. Adesso domenica si sfida Renate. Domenica è una partita difficile contro una squadra attrezzata che è terza in classifica, la conosciamo, però sicuramente sarà una bella partita, noi andremo in campo e daremo il massimo.